Benvenuti a NextGen, lo spazio di Invesco dedicato agli neolinguaggi finanziari. Siamo in compagnia di Giuliano D'Acunti, Country Head Italy Invesco. Buongiorno Giuliano. Buongiorno a te Giacomo e grazie per l'invito. Cerchiamo di capire a che punto è oggi il settore del risparmio gestito, guardando a esso sia dalla prospettiva dell'investitore sia da quella del consulente finanziario. Misuriamo un po' la temperatura del risparmio gestito, diciamo così. E allora partiamo da un concetto chiave e protagonista del settore in questi ultimi due anni, e cioè l'accelerazione digitale. Grazie a essa il mondo della finanza prova a cambiare pelle, ad allattarsi alle nuove esigenze dei clienti. Allora ti chiedo, Giuliano, quali sono le sfide che la finanza deve affrontare nel breve, ma anche nel medio-lungo periodo? Beh, direi che la domanda è abbastanza complessa, però proverò a dare delle indicazioni di quelle che sono, dal nostro punto di vista, le sfide più importanti che dovrà affrontare il mondo della finanza, come dicevi perfettamente tu, nel breve, nel medio e nel lungo periodo. Quindi ci sono dei cluster specifici. Beh, prima di tutto ti direi che soprattutto negli ultimi anni siamo passati dalla semplice vendita del prodotto finanziario alla consapevolezza sempre più da parte nostra che si debbano fornire dei servizi ai nostri clienti. Quindi tutto questo ha portato a un'evoluzione, a una trasformazione nel settore che spinge soprattutto noi asset managers a cercare di capire qual è il mercato in cui ci muoviamo e provare soprattutto a dare una contestualizzazione a tutto quello che sta succedendo. Dall'altra parte però, anche dato che la domanda era sul cliente, anche il cliente sta cambiando rispetto al passato. Vediamo un cliente che è molto più, ma questo oramai lo sanno tutti, è molto più digitalizzato rispetto a quello che succedeva dieci anni fa, ma la cosa interessante è che utilizza... Forse nasce già digitalizzato. Forse nasce già in attivi digitali. Esatto. Però sicuramente ha più dimestichezza con questo, ma la cosa interessante è che inizia ad utilizzare anche il digitale per fare investimenti finanziari, che era un qualcosa comunque sia di disruptive, se possiamo così dire, rispetto a quello che succedeva prima. Quindi questo è il primo filone. Sapendo che quindi, volendo sintetizzare, abbiamo dei clienti che sono molto più sofisticati oggi, c'è un accesso alle informazioni che è straordinariamente più alto rispetto al passato, e quindi se questi clienti oggi hanno un livello di confidenza con la digitalizzazione è molto più alto rispetto a quello che veniva precedentemente. Quindi noi oggi dobbiamo avere a che fare con un cliente che è cambiato e che è diverso rispetto a quello tradizionale. Un altro tema che è un'altra sfida, che chiaramente la finanza si trova ad affrontare, è quello che è relativo all'invecchiamento. Detto così sembra brutto, però giriamola in positivo. Si vive molto di più. Vivere molto di più significa che c'è una necessità di molti più soldi, ma questi sono i dati che te lo dicono. Oggi le statistiche ti confermano che entro il 2050 si passerà da 7 miliardi a 9 miliardi la popolazione. Per quanto riguarda l'aspettativa di vita, oltre il 21% a livello globale avrà oltre 60 anni, e come tu sai benissimo Giacomo l'Italia è uno dei paesi più vecchi sulla faccia della terra insieme al Giappone, pensa che nel 2050 avremo in Italia oltre 1 milione e 200 mila oltre 95 anni. Quindi questo è un problema dell'invecchiamento, è un fenomeno quello dell'invecchiamento che l'induzione del risparmio gestito deve sicuramente affrontare. Mi viene in mente una vecchia pubblicità dove c'è Woody Allen che chiama il proprio psicologo dicendo ho saputo che hanno inventato qualcosa che ci farà vivere fino a 150 anni, ma io dove li ritrovo i soldi ad arrivare fino a 150 anni? Ed era una pubblicità degli anni 90. Diciamo che stiamo piano piano avvicinandoci a una situazione simile. Ovviamente lo diciamo col sorriso. Beh sì, certo, col sorriso sapendo che la qualità della vita col passare del tempo, soprattutto se andiamo indietro al 1950, oggi, negli anni 90, la qualità della vita era sicuramente in netto miglioramento, quindi era facile aspettarsi anche un aumento dell'aspettativa di vita. A questo punto qual è l'altro evento, l'altro fenomeno che è immediatamente successivo a quello dell'invecchiamento e a quello del passaggio in giro nazionale? Quindi qual è la nostra sfida? È un tema che è stato, possiamo dire, già come trito e ritrito nel mondo della finanza, però l'aspetto innovativo, se vogliamo parlare di innovazione, è che oggi il mondo della finanza, il mondo della produzione, così come della distribuzione, quindi il mondo della consulenza, deve interiorizzare il fatto che il cliente è diverso rispetto a quello degli ultimi decenni, perché è un cliente che molto probabilmente sta cambiando anche abitudini, sta cambiando anche forse, modificando parzialmente il suo DNA, ma poi lo vedremo sicuramente più avanti, però quello che è cambiato drammaticamente è la modalità di comunicazione. Quindi per riuscire a coinvolgere nel passaggio generazionale il ceto medio, quindi le nuove generazioni, sarà importante che il mondo, che la finanza capisca anche di dover comunicare in maniera diversa e prima lo farà, tanto più sarà possibile poi gestire in maniera intelligente ed efficiente il fenomeno del passaggio generazionale. Beh, insomma, consulenza finanziaria vuol dire anche, e risparmio gestito vuol dire anche e soprattutto comunicazione, quindi siamo assolutamente su un tema cruciale. e ti va di fare allora, un po' l'abbiamo già fatto in realtà, di fare l'identikit proprio del nuovo cliente tipo che si affaccia proprio al mondo degli investimenti. Ripeto, un po' lo abbiamo in qualche modo accennato, adesso andiamo proprio in maniera diretta sul tipo di nuovo cliente con cui il consulente finanziario deve avere a che fare. Mi piace andarci già come in maniera diretta anche perché prendo l'occasione, lo spunto oggi, anche per condividere con te e con chi ci ascolta le analisi, i dati che vengono da una ricerca che Invesco ha condotto con Doxa. Abbiamo appena avuto recentemente i risultati e proprio parlando di nuova clientela, provo a spiegartelo meglio. Abbiamo clasterizzato i nostri, abbiamo fatto circa 750-800 interviste, dividendo, suddividendo gli intervistati, 50% uomini, 50% donne, chiaramente, ma poi andando a clasterizzarli per fasce d'età. Quindi 18-24, 25-29, 30-35. Quindi partendo dai millennials, i più vecchi, che oramai i millennials sono i più vecchi, andando alle generazioni dei più giovani. Quindi noi entrambi non siamo dentro questo. No, noi siamo borderline, siamo nelle prossimità di, ma non ci siamo dentro. Vengono fuori dei dati estremamente interessanti. Prima di tutto, che non necessariamente le nuove generazioni sono così drammaticamente diverse dai noi più anziani, più vecchi, o quantomeno più saggi rispetto a loro, mi auguro. 4 su 10, per esempio, di queste generazioni, trasversalmente tra i 18 e i 34 anni, dichiarano, dal momento in cui iniziano a lavorare, dichiarano di prestare molta, molta attenzione al futuro e quindi di voler risparmiare. E questo è circa il 40%. Il 35% di questo cluster tra i 18 e i 34 anni dichiara anche di aver già iniziato a fare degli investimenti. E la cosa che mi ha lasciato un po', non sorpreso, però mi ha fatto sorridere il fatto che quando si pensa ai giovani, si pensa al fatto di non essere, di avere generazioni non responsabili. Alla sregolatezza pura. E invece ti rendi conto come la percentuale, nel momento in cui iniziano a lavorare, che dedicano al leisure, quindi all'intrattenimento, ai viaggi, il resto è decisamente più bassa rispetto a quello che ci potesse aspettare. E quindi questo dimostra che il DNA del risparmiatore italiano rimane in qualche modo confermato. E questa è una tendenza di breve periodo. Esiste poi una tendenza del cliente ideale, dell'identity del cliente dei giovani, di nuove generazioni, che nel lungo periodo, per esempio, tende ad investire sui fondi. L'altro elemento che viene fuori in maniera forte e chiara è che c'è una grande, forte attenzione al mondo pensionistico. Molto probabilmente anche perché per quello che abbiamo detto, per quello che raccontiamo, anche nelle nostre continue conversazioni, e c'è una preoccupazione relativa alla capacità di mantenere lo stato di benessere, welfare, che fino ad oggi è stato vissuto dai nostri genitori, dai nostri nonni. Il dato che mi rincuora è che queste nuove generazioni, nelle loro risposte, abbiamo dato piena consapevolezza del fatto di sapere che forse la capacità di generare ricchezza è meno forte rispetto al passato, indi per cui... La dai meno per scontata, come forse abbiamo dato noi sulla scia del boom economico e dell'inerzia insomma che ne è conseguita. Loro sono consapevoli che sia molto più volatili. Sono più prudenti. Più prudenti. Sono più prudenti e capiscono che comunque sia devono, avranno a che fare con un problema che è importante e quindi iniziano a, come una buona formica, inizio a mettere un po' i grani in cascina e a cercare di preoccuparsi di quello che potrà essere nel lungo periodo. Potremmo chiamarla la Ant Generation allora. La Ant Generation è bella. La Ant Generation mi piace. Altri dati che mi sono piaciuti molto sono, ad esempio, che tematiche sposano i giovani, da che cosa sono interessati. E questo non mi ha sconvolto, anche perché, anche a livello di media, è molto forte, è molto sentito, così come nella finanza, questo tema. C'è grandissima attenzione da parte loro a tutto ciò che è attenzione all'ambiente, a tutto ciò che è social, a tutto ciò che è environmental, a tutto ciò che è attenzione per l'efficienza delle città. Per esempio, grande attenzione da parte loro al concetto delle smart cities, così come grande attenzione ad asset class che tipicamente non venivano considerate nelle nostre discussioni con i clienti e quindi penso banalmente alle cryptocurrency. Stavo per dirti per caso la crypto, eccole ci siamo. arrivano di prepotenza anche perché loro sono i più grandi utilizzatori delle piattaforme crypto. Sento tanti figli di miei amici che devono dare la paghetta al loro figlio perché il loro giovane, il loro ragazzo di 16, 17, 18 anni, 20 anni si diverte a fare trading sulle cryptovalute, mentre stiamo parlando di grandi somme. Però vuol dire che la loro mentalità, la loro modalità è ad andare su queste nuove tipologie di investimenti, immagino che sappiano che non sono soldi sicuri né soldi facili perché così non è, però sicuramente vediamo nelle loro risposte un'attenzione a categorie come NFT, cryptocurrency, come bitcoin. Poi altre cose ti lasciano quantomeno perplesso perché nel momento in cui chiedi loro qual è il vostro rapporto con la finanza, inizi a capire come la finanza si ponga effettivamente come un ponte. e te lo spiego ancora una volta e te lo provo a spiegartelo meglio. Il 70% di loro dice di volere un consulente finanziario e invece poi privato di fatto non ce l'ha e io provo a dare anche una risposta a questo. Evidentemente essendo così giovani avere anche un consulente significa avere anche dei patrimoni più importanti però è giusto ed è corretto che loro abbiano percepito che devono andare verso un concetto di consulenza quindi di gestione attenta dei propri risparmi per poter avere poi una delle risorse il loro patrimonio gestito comunque sia protetto in maniera efficiente. Con qualcuno che ne sa più di loro e che magari può istruirli e diciamo indicare la retta via. Io perdonami ma ho avuto un flash cioè tu dici che già a 18 anni si sta attenti e si tende anche un po' a tradare online delle cripto si è interessati all'NFT noi io mi ricordo da 18 anni avevo il computer con il giochino CGI insomma quindi è impressionante insomma come le cose cambino e a costo di essere banale come sia tutto veramente molto più veloce e come si dice in questi ultimi tempi fluido. E dici una cosa molto esatta e questo ritorna con quello che diciamo all'inizio Giacomo quando si diceva che l'accesso alle informazioni oggi è impressionante è sterminato quindi l'utilizzo del digitale permette un accesso sterminato alle informazioni e quindi molto di più anche sul tema della finanza e ben venga questo Giacomo perché uno dei dati che ancora emerge in maniera importante dalle risposte dei ragazzi è che ci si affida ancora tantissimo nella gestione del risparmio a quelli che erano i consigli dei genitori e dei nonni quindi vuol dire che c'è ancora una gestione permettimi di dire artigianale rudimentale di quello che è il risparmio e questo è però ancora un forte ritorno alla discussione già fatta di come molto probabilmente a livello politico a livello istituzionale poco si sia fatto in Italia sul tema dell'educazione finanziaria quindi questo emerge in tutta la sua potenza in tutta la sua virulenza questo dato però è altresì vero che loro si interessano quindi ecco perché il consulente dovrò cercare poi possiamo parlare anche del ruolo del consulente però sicuramente loro cercano un trade union cercano una modalità di avvicinarsi al consulente oggi diventa fondamentale trovare le persone corrette per installare quel tipo di rapporto di fiducia che è necessario quando qualcuno gestisce una delle cose più importanti della tua vita che oltre ad essere la famiglia i figli sono sicuramente la stabilità economica se posso aprire una piccola parentesi proprio forse è uno dei primi passaggi che mi hai insomma ci hai raccontato e cioè che c'è voglia di risparmio anche in virtù di una stabilità più complicata da ottenere rispetto a una volta non c'è paura da parte dei ragazzi insomma sulla base delle risposte che hanno dato nell'investire cioè è anche difficile comunicare a un giovane che sarebbe più utile mettere una parte o tutto il patrimonio in un investimento variegato che tenerlo fermo però dall'altra parte c'è magari il timore a perdere se investo Dio adesso scende tutto e perde tutto c'è paura da parte loro o c'è curiosità su questo fronte se posso chiedertelo guarda la nostra percezione è che si debba lavorare su entrambi i versanti sicuramente c'è paura perché la paura viene da da proprio il nostro DNA dell'italiano e come ti dicevo prima avendo tanto scambio su quello che sono i consigli con i papà e con i nonni vuol dire che hanno in qualche modo ereditato anche un concetto di paura verso l'investimento però dici bene c'è anche il concetto di curiosità e oggi come si è già detto capiscono l'opportunità di non poter accettare di mantenere i soldi sui conti correnti sappiamo benissimo quale è la piaga enorme del fatto di mantenere tanta liquidità sui conti soprattutto nel momento in cui l'inflazione come quella che stiamo vivendo oggi è così alta ed è un chiara ed è una chiara erosione del potere d'acquisto del proprio conto corrente ed è per questo che Giacomo mi permetto di dire che il mondo della finanza sia la consulenza che noi come produzione stiamo facendo tanto quando consigliamo i piani di accumulo quando consigliamo ingressi graduali nei mercati è tutto funzionale propedeutico a creare una struttura di lungo termine che poi nei fatti nella sostanza empiricamente dimostra che chi è investito nel lungo termine soprattutto su un mondo delle azioni e che non è preso dalla frenesia dell'ingresso tattico sui mercati sicuramente porta a casa dei risultati importanti Allora l'ultima domanda che ti faccio è quali consigli daresti a un consulente finanziario che vuole approcciare a questa nuova clientela emergente di solito si tende a dire magari quale consiglio daresti a qualcuno che vuole investire e che è giovane qui invece la domanda è un po' diversa qual è il consiglio a un consulente finanziario che deve avere a che fare con questa clientela emergente di cui stiamo parlando Giacomo io te la rigiro in maniera diversa io non do nessun consiglio ai consulenti finanziari io penso che il consiglio lo stanno già dando i ragazzi nelle loro risposte loro stanno chiedendo come pensano di voler essere trattati dal consulente e loro nelle risposte che hanno dato quando chiediamo come vorrebbero un consulente loro dicono sicuramente che vogliono una persona affidabile una persona che sia trasparente che sia chiara e qui viene tutto l'attaccamento viscerale alla famiglia quindi pensano al consulente che è qualcuno che appartenga alla famiglia dall'altra parte pretendono l'aspettativa è di avere molta più professionalità quindi un consulente che abbia non soltanto sofisticazione per quello che riguarda la materia ma che soprattutto Giacomo mi permetto di dire abbia la capacità di comunicare in maniera differente argomenti che molto spesso non possono e non devono necessariamente essere digeriti da tutti quindi nel momento in cui io voglio fare un investimento non voglio capire necessariamente cos'è il VAR cos'è il tracking error cos'è il peer group ma posso anche capire se il mio consulente ha capito le mie necessità e le sta implementando all'interno delle scelte che facciamo in maniera tale che poi abbia un percorso coerente e logico se dovessi concludere questa nostra piacevolissima chiacchierata ti direi che i millennials sono molto più baby boomers di quello che noi potevamo pensare e che il consulente finanziario sicuramente in un'ottica di medio periodo deve diventare più un life coach piuttosto che il consulente finanziario quindi interessarsi anche al concetto più di famiglia patrimoniale ed essere molto vicini soprattutto anche nella modalità di comunicare a queste nuove generazioni e mi viene anche da collegare a questo punto un concetto altrettanto chiave rispetto a quella accelerazione digitale di cui parlavamo che è un nuovo un nuovo diciamo così fattore un fattore invece vecchio che però deve sempre rinnovarsi è quello della fiducia la fiducia tra investitore tra cliente e consulente finanziario che deve rinnovarsi proprio in virtù delle novità che ci sono dall'accelerazione digitale all'esigenza insomma del cliente di avere tutto a portata di mano dal punto di vista digitale forse anche il consulente finanziario stesso? Io direi di sì ancora una volta la fiducia è la parola chiave in tanti settori quando abbiamo avuto dei problemi dal livello economico al livello finanziario a livello personale a livello familiare perché è avuto a mancare banalmente il concetto di fiducia è successo tra le banche è successo tra consulente e cliente succede nelle famiglie quando manca la fiducia tra figli e genitori tra moglie e marito quindi penso che quello è l'elemento determinato difficile da costruire sapendo che il concetto di fiducia si evolve nel tempo cambiano le modalità cambia l'intensità quindi sicuramente è un lavoro importante costante continuo e noi anche oggi mi auguro che sia data un po' di maggiore fiducia rispetto a quelle che sono le tematiche che noi stiamo cercando di affrontare fiducia anche poi negli investimenti in quello che si investe anche perché oggi un investimento può farlo anche a portata di smartphone e quindi avere a portata di smartphone anche una figura come il consulente finanziario insomma attraverso le applicazioni che abbiamo è sicuramente qualcosa di più che il cliente può avere e qualcosa di più che il consulente finanziario può mettere a disposizione beh Giuliano grazie per questa prima chiacchierata ringrazio Giuliano Dacunti Country Head Italy Invesco alla prossima grazie a te Giacomo Grazie a te Giacomo Grazie a te Giacomo